Buongiorno, dal Tg della Mobilità, dalla lunedì si riorganizza la rete dei bus a Ponte di Nona. Nasce la linea 045 per migliorare i collegamenti verso la metro C e la ferrovia FL2. La riorganizzazione della rete dei bus interessa i quartieri di via Collatina, via Casilina, via Prenestina e via Polense all'esterno del raccordo. Anulare modifiche e potenziamenti per la linea 042, 042 prolungata 075, 107, 113, 501, 508 e 555. Maggiori informazioni e dettagli su muoversiaroma.it. Le altre notizie questo pomeriggio si tini in centro dalle 15 a Piazza del Popolo e dalle 17 a Piazza Santi Apostoli. È tutto per questa edizione del Tg della Mobilità.